Ancora parleremo di guerra, perché quello che sta accadendo non permette di concentrarci su altro che la guerra. Ora, forse quello che manca in questi giorni è il realismo, lo stare con i piedi per terra. L'Europa, parlo nel giorno di 2 marzo alla sera, sono 4 e mezza 5. Le sanzioni economiche fatte contro la Russia da parte dell'Europa, dell'America e di altri paesi, sortiscono soltanto effetti limitati. La borsa di Mosca è chiusa e quindi è inutile girarci intorno. Quello che i paesi occidentali si aspettavano, per ora non è accaduto. Queste sanzioni economiche, come dicevamo già negli altri video, avrebbero il compito di portare alla lunga il popolo russo a ribellarsi al sistema dittatoriale, come viene definito, al sistema dittatoriale che vige in Russia. Ora, questo è molto difficile che accada, anche perché la propaganda del governo russo sarà quella di dire al popolo e quindi, vedete, sono loro che ci hanno messo in queste condizioni. Quindi, questo tipo di opposizione da parte dell'Occidente, questo tipo di lotta da parte dell'Occidente nei confronti dei sistemi dittatoriali si è rivelata già nel passato come una strategia fallimentare e ancora e ancora si rivelerà essere una strategia fallimentare. Per intanto, in Russia si cominciano a barare delle leggi per chiamare alle armi i maschi di età superiore ai 15 anni. Quindi, mentre nell'Occidente l'America non entra nemmeno in guerra, mentre non c'è un esercito europeo, mentre in Italia, per esempio, un giovane di 15 anni non sa nemmeno che cosa possa significare guerra, in Russia, si sono già portati avanti con la possibilità di chiamare alle armi, ancora non è successo, ma sta per accadere, i giovani con età superiore ai 15 anni. Questa è la situazione, questa è la realtà. Per quanto riguarda l'Ucraina, allora, il problema dell'Ucraina, in questo momento, è un problema di sproporzione di forze militari. Quello che ascoltate in televisione, nelle nostre televisioni, nei nostri canali di informazione, per l'80%, è propaganda. I 60 chilometri di carri armati che stanno vicino Kiev sono fermi, stanno aspettando un ordine. Perché Putin non ordina l'entrata a Kiev? A Konotop è stato dato un ultimatum, o i cittadini di Konotop si arrendono, oppure Konotop sarà rasa al suolo. Mariupol è circondata e intanto avanzano i fronti russi sul Donbass. Le condizioni poste dalla Russia nelle trattative, nelle negoziazioni, tra questi punti non negoziabili, vi è il riconoscimento della Crimea. è chiaro che se l'Ucraina vuole far sì che la resistenza diventi endemica in Ucraina, può anche farlo. Il prezzo delle vittime sarà elevatissimo, molto più elevato di quanto è stato fino ad ora. In questi giorni c'è stata la guerra in Ucraina, ma il dispiegamento, l'azione, gli effetti di queste forze sul territorio ucraino sono stati molto limitati. questo lo sappiamo tutti perché Putin non vuole inimicarsi del tutto il popolo ucraino. Parlo come dicevo nel pomeriggio del 2 di marzo, questa sera dicono che forse ci saranno riaperti i negoziati. per mantenersi realisticamente con i piedi per terra la possibilità che ha l'Ucraina di vincere, di mandare via i russi è per me praticamente zero. Non c'è questa possibilità. Questa possibilità è propagandata, ma nella realtà non esiste. Gli americani se ne staranno fuori. Biden ha detto chiaramente se ne staranno fuori militarmente intendo. Biden ha detto chiaramente che non può essere istituita la no-fly zone anche perché se viene istituita una no-fly zone sui cieli dell'Ucraina questo significa terza guerra mondiale. Quindi guerra nucleare e buonanotte a tutti. La possibilità che c'è in questo momento è quella davvero di firmare, di trattare, di cominciare a dire va bene alla neutralità, di propagandare questo, che l'Ucraina si riconosce come neutrale, non vuole fare parte della Nato. Stabilire questo punto fermo. Si può anche riconoscere la Crimea, questo è quello che penso io, la cosa più razionale che si può fare, si riconosce la Crimea e il Donbass. Da questo momento in poi, una volta che questi punti sono stati stabiliti, non può essere tolta la possibilità all'Ucraina, a quel che rimane dell'Ucraina. Quello che potrebbe fare davvero ora Zelensky è quello di mantenere Kiev dentro l'Ucraina, perché se i 60 chilometri di carri armati entrano a Kiev, Kiev non sarà nemmeno mai più dell'Ucraina e quello che rimarrà dall'Ucraina sarà Leopoli, tanto per intenderci, è forse Odessa. È forse Odessa. Ora, Zelensky avrebbe la possibilità di trattare e Kiev mantenerlo dentro l'Ucraina. Molti parlano di governi fantoccio, di cose di questo tipo. Si può per ora in un certo senso dire di sì a queste condizioni ed è poi che deve entrare in campo veramente l'Europa. Ok? E dopo che l'Europa può entrare in campo e veramente riuscire ad ottenere qualcosa, una volta che tutto questo è stato riconosciuto alla Russia. Ora, questo tipo di trattativa la si può fare ed in questi termini proprio oggi, stasera, ora, perché ancora Zelensky è vivo. Nel momento in cui verrà decapitato e ucciso Zelensky, questo tipo di trattativa non sarà più fattibile. Kiev passerà nelle mani della Russia ed in questo caso la Russia, Putin, avrà vinto completamente, avrà vinto senza residuo, non ci saranno residui alla vittoria di Putin. Ancora oggi è possibile ottenere qualcosa, mantenere un popolo come il popolo ucraino in una condizione di resistenza endemica e significa disfare questo popolo. Questo popolo non c'è più. Lì ci sono uomini, non ci sono le famiglie. Come dicevo già ieri, si parla di milioni, milioni di bambini, milioni di rifugiati, di profughi, non è una condizione in cui un paese può mantenersi vitale. Non è questa la condizione. molti parlano della mediazione della Cina ed è un pensiero che può anche farlo uno. A mio parere non ci sarà questa mediazione della Cina. La Cina sta a guardare. La Cina media, ma media solo per se stessa, non medierà per l'Ucraina. Siccome io vedo molte persone che non so se lo fanno per propaganda politica oppure veramente qui si è perso il lume della ragione, pensano di ridurre la Russia in ginocchio con le sanzioni economiche. La Russia in ginocchio con le sanzioni economiche non arriverà mai. Questo perché il popolo russo è un popolo anche abituato a soffrire. non basta la pubblicità dei cowboy americani per cambiare un popolo. Chi mi ascolta si metta bene in testa quello che sto per dire. Questa guerra se non firmeranno il trattato a breve, se gli ucraini non firmano il trattato a breve, avrà questi effetti, succederà questo. Zelensky muore, verrà ucciso. Uno degli obiettivi principali di Putin è quello di uccidere Zelensky. Una volta che Zelensky è ucciso il popolo si sarà demoralizzato. Si approfitterà di tutto questo, la resistenza naturalmente sarà abbattuta anche moralmente, già c'è Yanukovic lì in Bielorussia, prenderanno Yanukovic e lo metteranno al governo. Sarà Yanukovic poi a fare quello che deve fare, eccetera. In questo caso qui avremo proprio un nuovo governo filorusso in Ucraina e sono finiti tutti i sogni di gloria. Quello che non sta facendo l'Europa, l'irresponsabilità dell'Europa è proprio quella di avere chiuso i canali di comunicazione con la Russia, i canali di comunicazione con Putin. Chi parlerà con Yanukovic? Chi parlerà con Putin? Fra due tre settimane questa storia sarà finita. Cosa ne rimarrà di tutto questo? I quattro stinger che sono partiti dalla Germania o dall'Italia per abbattere i carri armati russi? L'Europa sta ragionando giornalmente. Qui serve ragionare per anni. Cosa succederà tra degli anni? E non andare dietro la filastrocca degli Stati Uniti d'America che i russi si ribelleranno e faranno la regola. Non succederà niente di tutto questo. Anzi, l'Europa, come ripetevo anche in altri video, la cosa intelligente e razionale che può fare è continuare a ragionare con la Russia, continuare a ragionare con Lavrov, continuare a ragionare con Putin, mantenere un dialogo, mantenere un dialogo, mantenere un dialogo razionale. E non soltanto per gli interessi nazionali nostri, italiani, che a parole noi facciamo almeno del gas, ci prendiamo questo e ci prendiamo quello, lo diciamo ora, fra sei mesi saranno molti quelli che andranno a bussare alle porte di Putin. Ok? Perché questa guerra durerà due o tre settimane, al massimo, tra due o tre settimane tutto sarà definito. E poi? E poi? Che cosa accadrà? poi? Questo è il punto. Chi governa l'Europa non ha la capacità di governare in queste situazioni. Hanno la capacità di leggere le tabelle, di fare gli algoritmi, di fare questo e di fare quello, di scrivere documenti, ma non hanno la capacità perché la vita non gli ha data questa possibilità, non hanno questo tipo di esperienza. Questa qui è la realtà. Non c'è questo tipo di esperienza. Quindi non lo possono fare. ragionare in termini di giorni, non si ragiona in termini di anni, ma addirittura pure la Germania. Tu blocchi il Nord Stream 2. Ma bisogna davvero essere di vedute, di vedute, di miopi, non guardare lontano, guardare semplicemente a domani. Quello che si può imparare in questo momento è di ricordare. Ecco, a chi mi ascolta chiedo di ricordare, ricordare le previsioni fatte, ricordare tutti i farfugliamenti, le blaterazioni che stiamo facendo dall'Occidente e anche le blaterazioni che vengono dalla Russia. Molte cose sono solo parole, parole, propaganda che non porta a niente. Ok? Porta solo a non far capire al popolo quello che sta accadendo. vi prevedo questo. Zelensky a Zelensky sarà decapitata la testa. Se non firmano stasera a Zelensky sarà decapitata la testa. Sanno dov'è. Sanno dov'è. Questo è il punto. Non è che Zelensky è in un luogo che non si conosce. Non vogliono sterminare Kiev per arrivare a Zelensky. Non si vuole questo. Non conviene nemmeno a Putin. Una volta che Zelensky sarà decapitata la testa allora le trattative saranno fatte e ci sarà chi accetterà quello che dice la Russia. Allora dico io tanto vale arrivare oggi alla trattativa e guadagnarsi ancora Kiev perché ancora Kiev è trattabile. Kiev è ancora trattabile. E mantenere davvero la possibilità di riuscire a far sì che un sistema democratico possa esserci in Ucraina se non interamente democratico in parte mantenere questo canale affinché questo possa accadere bisogna riconoscere la Crimea e il Donbass trattare su Kiev mantenersi nella neutralità da parte dell'Ucraina Zelensky si salva la vita ed è lui che può trattare perché quel che rimane dell'Ucraina sia il più vicino possibile ad un sistema democratico. Immolarsi farsi vedere eroi in questo caso non porterà a nulla porterà a Djarungovic di nuovo lì di nuovo al governo in Ucraina e il governo sarà interamente filo rosso in questo caso l'Ucraina avrà perso completamente questa guerra e i morti che ci sono stati e quelli che ci saranno saranno stati vani. Grazie 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 a tutti